Ragazzi, e se vi dicessi che a me piace, c'è un po' polar opinion proprio, a me la SF21 piace Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Antonio e bentornati in questo nuovo vlog Signori, recentemente è stata annunciata la livrea della Ferrari, della SF21, della monoposto che vedremo in pista per tutto il mondiale 2021 di Formula 1 E ha creato non poca discussione, il mondo si è diviso in due signori, c'è chi ama il logo verde, c'è chi lo odia profondamente E a me raga piace, sì il verde stona, per l'amor di Dio non sto dicendo questo, però è una cozzaia di cose, è un po' strana ecco Il colore è quello classico, un classico rosso, che sfuma nella parte posteriore, troviamo un amaranto, che richiama la S125, quindi una macchina gloriosa tra l'altro E poi ci sono i colori dei vari sponsor, giallo della scuderia Ferrari, il giallo senape e il verde fluo Cioè quel verde fluo effettivamente detto così, io vi capisco, è un po' campatinaria, vi do ragione Però non so, forse perché la vedo con l'occhio dell'editor, immaginate quando faranno tipo gli epic moment Oppure ci sono i montaggi quelli là con Kimi Raekkonen, no Sebastian Vettel che diventa tutto quanto colorato, stile Mario Kart Secondo me quel verde può diventare carino Ho scelto i personali, qui dobbiamo ammettere, oggi parleremo della monoposto in sé, com'è cambiata, cosa non è cambiato Quindi il colore è sì l'argomento principale, ma magari divertitevi voi nei commenti senza uccidervi Lascialo due commenti, ok? In base a quello che riceverà più like, vi piacerà o non vi piacerà il logo verde Ok? Facciamo così e cerchiamo di volerci bene tutti La presentazione è stata molto molto bella, mi è piaciuta in modo particolare Anche se il sito della Ferrari ha fatto un po' male, se impostavi l'orario del computer tipo un'ora avanti o un'ora indietro Potevi tranquillamente vedere la presentazione prima, ma va bene, ci è piaciuta la presentazione Anzi io ho un po' di paura su alcuni punti e li analizzerò insieme a voi È strano da dire, però hanno giocato molto sui sentimenti ed era una cosa molto probabilmente normale nel video di presentazione Poiché l'anno scorso è stata una stagione alimentare Era scontato che si sarebbe giocato sui sentimenti, su quello che poteva essere il rapporto tra Leclerc e Sainz Però ho paura che il fatto che abbiano giocato proprio sui sentimenti ha fatto sì che noi ci riavvicinassimo come tifosi Perché molti tifosi occasionali sono andati persi durante l'annata precedente Ma la mia paura è che anche quest'anno possa essere una stagione fallimentare ed è per questo che hanno giocato sui sentimenti O per nascondere una mancanza o perché voglio proprio trasmettere energia In questo caso io penso abbiano fatto entrambe le cose e perciò mi preoccupo Però alla fine questo è un discorso soggettivo, assolutamente Non è nulla di concreto, non abbiamo niente di concreto in mano Anzi, se devo dirvi le mie primissime impressioni del primo giorno di test, signori, sono ottime Però è soltanto il primo giorno, non posso giudicare niente, qui non esce ancora un video analisi Successivamente, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché ci sarà un video analisi Però al momento mi tiro indietro perché altrimenti succede il patatrack Passiamo al succo, a quella che è la vettura quest'anno Quelle che sono le novità perché le scelte sono state molto coraggiose ragazzi Nel 2022 ricordiamo che cambia tutto il regolamento Le monoposto diventano più piccole e tutti quanti i team dovranno riadattarsi Potrebbe addirittura nascere una nuova era dopo la Red Bull e dopo la Mercedes Potrebbe, che ne so, esplodere la McLaren e ritornare la Ferrari È un salto molto molto importante e la Ferrari però quest'anno ha veramente investito tanto sulla sua monoposto Era obbligatorio puntare a quest'anno perché l'anno scorso è stata fatta una colossale figuraccia Quindi da un lato sono contento, dall'altro ne è valsa la pena Spero di sbagliarmi e che comunque hanno lavorato in maniera conservativa senza spendere troppo a livello di budget Ma se proprio volessi essere pignolo è un po' da tempo che la Ferrari col budget è un pochino fraccino corto Sorvoliamo Scelte coraggiose perché? Cosa hanno sviluppato? Le novità sono tante, l'aerodinamica è stata un po' sacrificata Soprattutto la parte davanti della vettura abbiamo un muso largo A differenza di altri team che hanno presentato un muso stretto perché hanno speso essenzialmente il gettone sviluppo in quell'area della macchina La Ferrari ha preferito puntare su altro e quindi il muso anteriore è essenzialmente un'evoluzione della stagione precedente Quindi di quello 2020 Molto rivisitato sono tanti gli accorgimenti e i dettagli che si notano nella parte anteriore Sopra il numero di Leclerc e di Sainz notiamo 4 piccoli deflettori che in teoria dovrebbero convogliare meglio l'aria sull'esterno della gomma Raffreddare la gomma e evitare attrito Certo a parole è facile, ricordo che il muso a differenza degli altri è più grande Per farla breve in soldoni la macchina deve spingere più aria, vi è più attrito e vi è quindi minore velocità per esempio sui rettilinei Il gettone sviluppo è stato utilizzato nella parte posteriore, nella parte proprio che si presenta in colore amaranto Lì si presenta una pancia molto molto più piccola in stile Mercedes e Aston Martin Mi fa ben sperare perché hanno copiato dalle persone buone, hanno sbirciato nel compito i secchioni Potrebbe essere di buon auspicio Abbiamo un nuovo cambio, abbiamo delle nuove sospensioni Un retrotreno quindi molto più rastremato che in teoria dovrebbe convogliare in maniera... L'aria viene convogliata in maniera molto pulita Quindi questo si racchiude in minore attrito Sempre lì andiamo a parare A livello aerodinamico stiamo lontani Già lo scorso anno la scuderia Ferrari era in basso Lo scorso anno il team Mercedes, la Racing Point, la Red Bull, la McLaren, anche la Renault Si presentavano molto meglio a livello aerodinamico quindi non mi aspetto un grande miglioramento Però questa non la Ferrari è ricca di dettagli e sicuramente c'è impegno Quello che invece è emerso dal giorno unle di test Che ripeto non vale niente ma ve lo comunico lo stesso È importante secondo me Perché abbiamo visto Leclerc e Sainz corre in due momenti separati Leclerc la mattina e Sainz il pomeriggio Sainz in condizioni veramente critiche Sono rimasto esterefatto dal quantitativo di sabbia che era in pista Però devo ammettere che i tempi di Sainz con la sabbia in pista, con il forte vento, con il poco grip che vi era sul circuito, sull'asfalto È andato forte A livelli interstellari Verstappen è ok, tutto quello che volete voi Le Mercedes molti hanno detto flop, io non sono d'accordo perché è il giorno 1 Non si sono spinti realmente oltre Hamilton non ha mai fatto un vero e proprio run Anche Leclerc possiamo dire lo stesso Leclerc ha lavorato in maniera molto molto strana Perché spingeva in un settore per poi rallentare tantissimo Tipo nel secondo settore E nel terzo settore fare un altro tipo di lavoro E quindi è come se lavorasse a scaglioni Questo ovviamente fa sì che non capiscano gli altri team che lavoro stai facendo Molti sono lamentati anche del fatto che la Ferrari si sia spenta 5 minuti alla fine della prima sessione di test E io qui mi sento di dire andate a farvi bene di Perché sono il primo giorno di test Tanto può essere una tattica per chiudere prima la sessione E magari non far fare un turno, un time attack o un pilota Tanto può essere che si è spenta veramente la vettura Perché Leclerc aveva in quel momento tipo 59 giri all'attivo Non partiamo subito con gli allarmismi e le cose Non abbiamo visto né fumo, né problemi di nessun tipo Nessun problema elettronico Quindi la stagione è lunga, non ci intossichiamo i test Questo vi dico E nulla, vi ho detto la mia sulla vettura che a me piace È molto molto carina, col verde è spregiudicato, coraggioso Verde è speranza Chissà che non porti bene A me piace tanto 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 Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Perché in questi giorni vi porterò tanti contenuti Sia per la Formula 1 che per la MotoGP Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina Trovate tutti quanti i link in descrizione ai miei riferimenti social Mi raccomando Instagram, Twitter, TikTok, canale dove si fanno le live Podcast da Tonio Era tutto, passo e chiudo